Cosa dici Kit? A me c'è fatto un somma da Sandrine orecchione? Questa domanda non merita risposta, Michael. A me mi piace la pizza. Sta chiamando Damon, Michael. Passiamo qua. Michael, vi gasto nella caccia della raffa e l'offerta l'ho usata. Eh beh, direzze Ciccio, stavo dove gli... Non ci sei a Shadow Knight, o sei che qui non può essere. Pizza! Fa una cosa, visto che gli occhi pigli pure dai cerchi dei vorpi. Ma la vita fa gli asti ma ogni volta. Sai cosa fa? Metterebbe la canzone. Non hai di tarda, non ti leggo niente, Lontano rompere, nascoste dal cielo, non ti leggo niente, non ti leggo niente. Non ti leggo niente, non ti leggo niente.